Musica Le nostre avventure georgiane nella Repubblica Autonoma della Jara proseguono ai piedi delle montagne dell'Esser-Caucasus a nord della Turchia. Cime innevate, paesaggi subtropicali. La riva del mare dista solo 50 chilometri. Siamo a Goderzi, una nuova stazione sciistica in Aggiara. Aperto solo due stagioni fa, questo resort sta avendo un grande successo grazie alla sua vicinanza a Batumi, tanto da essere il più frequentato del Mar Nero. Nonostante il clima mite, le montagne qui sono innevate da novembre ad aprile. Questa zona ha un clima particolare. In alcune stagioni si può prendere il sole sulla spiaggia e poi andare a sciare. Il giorno successivo il mare è vicino, c'è molta neve e una grande attrazione turistica. Lo strato di neve raggiunge spesso anche i sei metri in cima ed è un'affascinante sfida per i freerider e gli appassionati del genere. Grazie.